Ho deciso di mollare sia voi che la Overtime. Ho scoperto che la mia vera vocazione è raffinare le banche. Cos'è la Overtime? Una società in cui non andrà a lavorare. Bene, perché i conti tornino devono essere stati loro. Sono stati loro e meno di tre ore fatti. L'unica cosa che la guardia ricorda è una scollatura molto, molto generosa. Sono state davvero inganno. Uno sbaglio prima o poi lo fermo tutti. Gli uomini svegliano sempre, le donne sono più attente. Che cosa stai dicendo? Ma è buonissimo. Su, dimmi i nomi di tre rapinatrici di banche. Vabbè, abbiamo. Vedi? Non li conosci perché le donne non si fanno prendere. Beh, queste qui saranno le prime. Forse in loro andrei sulla costa. Ah, tu continui a ragionare da maschio. E in che modo ragiona una donna? Rapini una banca e vai più lontano possibile, no? Errore. Sei stanca dopo una faticosa rapina e vuoi iniziarti un po'. Te ne vai in albergo, un buon bagno caldo, poi ti vuoi fare un massaggio su tutto il corpo, una cenetta fuori e poi vai in un bello calino.